Questo fine settimana ad Arsita ci saranno una serie di appuntamenti e di eventi a cominciare da sabato con la corsa del transumante e poi addirittura ci sarà proprio l'evento clou domenica alla transumanza vera e propria per con cui si accompagneranno proprio le greggi all'alto alpeggio. Una manifestazione a cui io invito tutti coloro che vogliono partecipare perché è una manifestazione che comunque tiene a valorizzare, a rievocare quella che è una caratteristica di tutti i territori montani cioè la pastorizia e di tutti quei territori che appunto sono vocati all'agricoltura e alla pastorizia. Per cui io invito tutti a partecipare ad un evento che nel corso degli anni ha dimostrato la sua valenza e sta crescendo sempre più. La transumanza è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO il che ci rende molto fieri come prologo perché in tutto Abruzzo siamo gli unici che ancora portano un greggio in alta quota. Infatti nella giornata di domenica ci sposteremo da circa 500-600 metri di quota ai 2000 metri. La giornata porterà il passo degli animali quindi è accessibile a tutti, anche a persone con portatrici di disabilità. Infatti c'è un'associazione che si occupa di rendere accessibili tutti i territori.